buongiorno a tutti benvenuti o bentornati sul canale youtube della lucerna di cronos per un nuovo interattivo la carta del giorno oggi usiamo le sibille un mazzo che tutti conoscete la sibilla un mazzo molto celebre che viene usato da molti cartomanti e alcune volte in alternativa ai tarocchi altre volte invece viene proprio letto solo le sibille quindi sono definite molto chiacchierone ed effettivamente le sibille lo sono non che i tarocchi quando vogliono non lo siano però sono due linguaggi diversi estremamente affascinanti ricchi e carichi di suggestioni e sfumature più che di suggestioni e sfumature la mattina c'è bisogno invece di una bella carica e chi la dà la carica se non il caffè del peggio palaya pub l'ottimo caffè del peggio palaya pub quindi che state aspettando magari qualche mattina venite anche voi a visitare il peggio palaya pub e vi fate un buon caffè anzi dico di più venite a pranzo così gustate i prodotti tipici e l'ottima birra e anche l'ottima ospitalità del peggio palaya pub e quindi niente intanto partiamo intanto sto mescolando le carte e mentre mescolo le carte vi ricordo anche che il tappetino della lucerna è stato realizzato da antonella mancini che ringrazio e se volete se avete da personalizzare tappetini magliette tessuti potete rivolgervi ad antonella i link che li lascio in descrizione saprà certamente trovare la soluzione più ottimale alle vostre esigenze bene partiamo quindi con la nostra sibilla due carte come sempre due versioni e vediamo che cosa ci dice che energie ci saranno per la giornata di martedì 9 febbraio 2021 eccole qua qualche secondo e poi partiamo ok iniziamo dalla prima variante allora abbiamo la costanza del bambino sono le carte molto molto positive in generale specialmente il bambino per quanto riguarda la costanza è sicuramente una carta che come già il nome dice indica comunque di perseverare in un qualcosa quindi comunque va a parlare di riuscita di certezza di benessere di benessere ottenuto con un impegno che appunto è costante e auspica che si sia fermi nelle nelle nostre intenzioni quindi però la fermezza dice la carta della costanza non significa rigidità morale ma essere saldi ai propri principi però comunque sia anche aperti alle nuove esperienze ma comunque costanti nella nella propria interiorità quindi nei propri desideri nel proprio nel proprio approccio al mondo quindi lavorare come si può dire aprirsi al mondo pur rimanendo se stessi costanti con i propri obiettivi e col proprio essere interiore quindi comunque la fermezza su voi stessi è una carta molto positiva ripeto e diciamo che proprio la descrizione della carta dote vistosa o riuscita va a parlare comunque di una realizzazione prossima quindi una carta ripeto molto 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 positiva come 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 uscita mentre è mediata dalla carta del bambino anche la carta del bambino del mazzo del tarocco scusate della sibilla è una carta estremamente positiva e parla di spontaneità di semplicità di dolcezza forse c'è quel piccolo pizzico di ingenuità che però in realtà non basta mai e parla di accogliere un qualcosa di nuovo che sta entrando nella nostra vita con entusiasmo senza pregiudizi dice che qualcosa sta per fiorire attorno vicino o dentro di noi quindi comunque è un nuovo inizio un nuovo passo un primo passo una realizzazione sono energie molto costruttive quindi tutto ciò che oggi viene messo in cantiere o tutto ciò che oggi sentiamo che sta per arrivare in realtà è estremamente positivo per la nostra realizzazione quindi direi che qui c'è c'è poco da aggiungere sono carte che comunque parlano di una giornata molto costruttiva su tutti i fronti sia il fronte degli affetti quello del lavoro eccetera eccetera bene direi che il primo messaggio le sibille lo hanno dato veramente ottimo vediamo il secondo allora per il secondo abbiamo l'amica e il mercante ecco in questo caso si tratta di due carte un po' particolari perché l'amica è certamente una carta che può avere sicuramente diciamo implicazioni fra virgolette positive perché comunque sia per esempio nel caso della della carta dritta va a rappresentare a parte fisicamente una donna che di solito è castana quindi comunque va anche a dare dei tratti somatici ma questi peculiari delle sibille va a parlare comunque di una vita sociale intensa stabile di protezioni di tranquillità di serenità quindi di validi aiuti e consigli da amici è come se vi stessero dicendo qui guardatevi intorno perché c'è sicuramente una persona che o più persone che possono darvi una risoluzione a ciò che magari vi sta accruciando in questi giorni è una carta di complicità di assistenza questa assistenza appunto dicevo c'è un lato un pochino più forse oscuro della dell'amica diventa diventa l'incomprensione perché magari è frutto di troppe aspettative oppure diventa il giudizio superficiale perché magari non si conosce troppo a fondo una persona quindi in realtà l'amica è una carta molto fortunata però occhio a come vi ci approcciate perché perché accanto avete una carta del mercante il mercante è sicuramente una carta buona ottima rappresenta appunto occasioni nuove vantaggiose eccetera eccetera quindi una persona matura sicuramente sicuro abile negli investimenti che ha comunque collaborazioni proficue eccetera sicuramente rappresenta tutto questo però come la figura classica del mercante va a dire rappresenta anche le strategie del mercante questo è un mercante che veste un tipico abito dell'est del vicino oriente quindi chi ha un attimino di infarinatura storica sa che tipo di vita facevano e che strategie erano costretti ad approcciare quindi tutte le trattative i piccoli imbrogli, i sotterfugi, la vita difficoltosa ecco quindi qua sembra quasi che vi stia dicendo ok c'è qualcuno che può aiutarvi c'è qualcuno che può venirvi incontro c'è qualcuno che può avvicinarvi c'è qualcuno che può proporvi anche una sorta di iniziale risoluzione al vostro crucio ma attenzione prima fate una strategia prima di fidarvi quindi qua vi sta un attimino mettendo in guardia da quelli che sono i potenziali rischi di una un parlare troppo con qualcuno benché questo qualcuno magari sia animato dalle migliori dalle migliori intenzioni magari può farvi un danno involontario magari che ne so lasciandosi sfuggire qualcosa di privato o magari dandovi un consiglio oppure con tutta la buona volontà del mondo che però in realtà non vi è funzionale quindi quindi occhio a quello che che dite oggi bene io con questo finito vi ringrazio per aver visto questo piccolo interattivo ci vediamo domani per la carta del giorno e vi auguro una buona giornata ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti